Ciao tutti amici, io sono andato molto molto e molto avanti da quando mi sono comprato, eppure almeno quasi una settimana fa mi sono comprato, è quasi finito il gioco. Qua io mi ricordo che l'avevo già fatto, perchè me lo stanno fare fuori fa? Il figlio del grande muore, sai che sei pronto da prendere il gioco che ti occupa? Questo è un po' di roma che non ti sento più. Van Aschur, io tra gli dèi, ha creato il mondo cantabile, per questo ci rendiamo grazie. Ringraziamo gli dèi per il dono della vita, per favore prendi un cestino delle offerte. La candela ci ricorda che cresciamo solo quando siamo disposti a superare i nostri... Aggiungiamo... La vita è ebole e fugace come un piede... ...e' un'acqua... ...e' un'acqua... ...e' un'acqua... ...e' un'acqua... ...e' un'acqua... ...e' un'acqua... ah facciamo un giro di un sacco giro 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 la volta giro la volta ora arriviamo di cestino e andiamo a cercare giro la volta e andiamo a cercare giro la volta ha chiesto che tu potessi assistere gli alagli, il grande demone in tutte le persone fa false promesse e brucia la speranza la capra muore per tenere gli alagli assoluto e soddisfatto povero caporetto non ci viene ci ammazzo perché non non ci è giusto non ci è giusto non ci è giusto non ci è giusto ma non ci è giusto non ci è vero ma non ci è giusto qua qua se mi ricordo quando uno sta bene quando dovrei passare tutti fuori quando si fa saltare tutto quando fa saltare tutto con la statua e se non mi ricordo male l'armeria boom boom ti muori ti muori ti muori ti muori ti muori si, da quanto giuro oh se vende un mitra que dai dai se lo vorrò d'arci la lì non è l'armeria no, per pochissimo ma se non mi fanno male 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 se perdono una missione non mi fanno male e riconosci proprio il cittadino eh sì se non mi fanno giusto ho preso la mina, sì e mori tu avrai un grande mese il primo mese tanti altri vorrebbero con il primo mese no, non mi vorrebbero mai i soldati stanno staccando l'armeria mi serve aiuto intanto prendiamoci un po' di pepe e magari anche la farna che cittadino ma ti dà l'armeria non è l'armeria io vado a prenderlo tu avrai un po' di pepe fuori vuoi ancora più male perfetto ora qui abbiamo un altro questo però può saltare l'armeria che si è un po' di pepe è un po' di pepe che si è un po' di pepe Stanno buttando dall'Armeria! Ma questi ce ne sono che stanno attaccando tutto l'esercito qua? Vediamo anche tutti, tutto il suo esercito. Certo, però fa l'impressione che stai scegliando. E cura se le ha crocchiato un braccio, non lo sapevo, ma se qualcuno è stato proprio la mano. Non vuole l'elicottero, no. E' molto giusto. Dai! E non ce l'abbiamo fatta. Come è il solito. Questa missione non l'avrei mai voluta fare. Noi tiriamo sassi. Ci ha curato, stai. Stanno distruggendo le icone! Stanno buttando all'Armeria! Grazie! Non è stato accusato! dioxide! Arma tua, grazie! Oh! Wow! Un'altro assassino! sto uccidendo tutti tutti quelli che mi passano in avanti ancora non capite che voi appena provate a fiorare sono guai per tutti voi e tu che vuoi fare con la pistoletta? voi mi dovete dire quanti siete così faccio il calcolo e vediamo quanti vi posso ammazzare sì ah da dietro come un virus no è modo per rifare tutto credo che in questo video non ce la faremmo proprio per niente ce la facciamo scusate vabbè visto che non ce la facciamo il video e ciao grazie